Ciao a tutti ragazzi, siamo io e l'Uni, siamo a Bologna e oggi faremo lo scherzo al nostro amico Ema con Edri che per oggi si chiamerà Abadul e andrà a vendere fazzoletti al gruppetto dei loro amici con eccessiva insistenza. Volete un po' di fazzoletti? Ragazzi, volete fazzoletti? No, no, dai, no. No? Tu vuole fazzoletti? Tu? No. Perché no, bella bimba non vuole fazzoletti? Come ne ha già tre? Ho tre pacchetti. Lui però ha il pene. È maschio. Tu maschio? Mi prendete per cuore. No, no, è davvero maschio, si chiama Emanuele. Emanuele? Sì, è donna Emanuele. Siete sicure? Sicuro. Non mi date neanche un minuto per convincere? No, grazie. Siete sicure? Sicuro. Solo perché sono nero? Sicuramente no. Guarda, no. Come guarda, no? A me sembra per questo. Non mi state nemmeno guardando in faccia. Sono così brutto. No, e ci stiamo parlando di una cosa molto importante. Di cosa ho parlato io? Eh, di Raffaena Salomriano. Quindi ho organizzato. Quanti anni fate? No, 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 io ho la nostra vita. Ah, fate sorpresa? Sì. Regalate il fazzoletto. Eh, sì. Ripeto, vanno a parlare con qualche passante bolognese, africano, italiano, calabrese, il mio amico, o chi cazzo sia Bologna, al mondo di morte la moglie, crotone, rosale. L'altro anno li fa fuori. Del svecchio di merda, ride che non è un cazzo. Ma voi no di Bologna. Io sono di Venezia. Un cazzo. Un cazzo. Ma che cazzo fai? Oh, mai visto? Oh, vieni qua. Oh, vieni qua. Me l'hai rotto. No, me l'hai spaccato. Dio cane, non va più. Non va più. Cazzo. Non va più. Cazzo cane. Vedi che non va. Mi sembra che lui non è tanto contento che io cuoco. No, lui è razzista. No, lui è cattivo. Lui ogni volta che mi vede, viene lì e mi fa così. Cazzo è proprio stronzo. Oh, te l'ho detto. Che non ho bisogno. Come fai tu a dire che non ho bisogno? Perché non ho racconto. Io sento dentro tuo muco che c'è. No, no, no. Guarda, me l'hai distrutto il cane. No, è carico, la stavo chiamando prima. Il cane è rotto, l'hai distrutto. Cosa facciamo? Cazzo fai. Cazzo fai. C'è, camminavo, mi ha urtato lui e ti ha fatto cadere il telefono. Io. Cosa ho fatto io? Ma poi veneto fanno autobus nero da una parte bianco. Tu mi stai sul cazzo perché... Poi abbiamo dei cretini di merda a ridere. Sti bastardi idioti. Non va, non va. Togli la batteria. Non c'è. Come c'ha fatto la batteria? Ma che macco. No, io non so. Ma che macco. Porca p***a. Ma dove non si può che chiamare? Ma de p***a, l'hai distrutto. L'hai distrutto. Ti perdoni, andrebbero uccisi queste merda. Altro che Beppe Grillo. Ma i bisnonni lo dicevano. Si. Ci sta scoppiando il mondo e stanno qua a parlare a fare un cazzo, ricchi e poveri. P***a. Dove devo andare? Allora ci lascio le tue generalità. Eh? Le tue generalità. Non so neanche cosa vuole dire. Il nome e cognome è quello. Il nome e cognome è il numero. No, grazie. Come no? A che cazzo gli devi scassato? Ma non hai visto. Di qualcosa interessante, non so. Addestramento supereroi. Vai, vai, vai. Bocciato, bocciato. Bocciatissimo. No, basta. Guarda lì, ti stavo a fare un bel rischio. Gli occhi, non è che siamo... Ahahahah. Le gran cazzo. Gravi. Ripeti? Ho quattro zampe. Cadeci perché non mi ha dato. Ehi scusa, mi sono perso e non ho il cellulare perché i miei genitori mi puoi per star un attimo il cellulare. Sì. Grazie mille. Ok. Aspetta che sta chiamando. Chi è il tuo numero? Ci sentiamo dopo, bella figa.